Un KO 4-0 per il Nereto a Lanciano, una partita equilibrata, godibile nella prima frazione e poi il tracollo nella seconda frazione. Sì, diciamo pure che dopo che la partita è stata compromessa ho fatto molti cambi, anche alla luce che la nostra rosa non è larghissima, anche per far rifiatare qualcuno. Quindi abbiamo fatto anche qualche cambio in più a partita compromessa. Quello che rimane è un primo tempo equilibrato, ripeto, dopo il primo gol non siamo riusciti a reagire come pensavo, mentre la prima parte è stata giocata bene dalla mia squadra. Volevo chiedere sul piano generale, lei quest'anno in eccellenza, che livello di qualità di gioco è? Io sono tornato da due mesi su questa panchina, quindi l'anno scorso stavo con l'annato Curi, quindi ormai è 3-4 anni che alleno questo campionato. Sicuramente, devo dire la verità, secondo me sotto è un po' sceso il livello, mentre sopra ci sono quelle 4-5 squadre ben attrezzate e forti. Diciamo che se è sceso, è sceso nella parte medio-bassa del campionato, secondo me, rispetto all'anno scorso. Grazie.